3 ottobre 2019 Messaggio di Nostra Signora Cari figli, io sono la vostra Madre e vengo dal Cielo per condurvi a Colui che è il vostro unico e vero Salvatore. Dite a tutti che Dio ha fretta e che questo è il tempo della grazia. Valorizzate i tesori della fede che il Signore vi ha concesso. Ricevete con gioia tutto ciò che il Signore vi offre. Verrà il giorno in cui molti avranno da pentirsi della vita trascorsa senza la grazia di Dio, ma sarà tardi. Soffro per quello che viene per voi. Gli uomini hanno rifiutato l'amore di Dio e un grande castigo cadrà sulla terra. Ritornate pentiti e cercate la misericordia di Dio per mezzo del sacramento della confessione. Dio vi ama. La mia presenza in mezzo a voi è segno dell'amore del Signore per voi. Siate giusti. La vostra ricompensa verrà dal Signore. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Allontanatevi da tutto quello che vi allontana da Dio. Quello che dovete fare, non lasciatelo per il domani. Coraggio. Qualunque cosa accada, rimanete nella verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.